ciao ragazzi e benvenuti in uno dei laboratori e gravity group oggi vi volevo presentare uno dei test che abbiamo fatto abbiamo appena finito abbiamo appena finito ora un test che serve soprattutto per la ripresa alla ripresa non saremo tanto in forma dovremmo ideatarci e noi abbiamo sfruttato per far questo il motore che abbiamo a disposizione il motore Brose su questa Specializer Turbo Lego ora vi farò vedere nel dettaglio cosa abbiamo fatto venite più vicino ok allora ci siamo più avvicinati come potete vedere abbiamo inserito questa nuova chiamiamola borraccia di supplemento dove via un beccuccio che vi entra all'interno del vano motore quello che ci serve è sono tre mandarini abbiamo preso i mandarini poi faremo con le arance ma soprattutto i mandarini per la loro dimensione dove non verranno dove verranno inseriti all'interno di questa borraccia tre mandarini a questo punto non ci resta una cosa semplice la borraccia interagisce col Brose lo accendiamo perfetto schiacciamo il nostro turbo perché comunque è in turbo turbo e qui non ci resta altro ragazzi che quando ci fermiamo prendere un bicchiere oppure un'altra borraccia comunque avremo una sostanza adattante fresca spremuta al momento perciò vi faccio vedere ok perfetto io mi sono regolato intanto con questa quantità i mandarini sono stati premuti per quello che serviva e noi ci possiamo godere un bel bel bicchiere d'alance salute e a presto alla prossima ci vediamo sui trial ciao